ciao ragazzi e bentornati sul mio canale ben contento di ritrovarvi come potete vedere sono qui davanti a una mia realizzazione che sto proprio effettuando in queste settimane è una scena pasquale sarà raffigurante il sepolcro da questa parte e alla sua sinistra la crocifissione è ancora un lavoro tutto da da finire chiaramente adesso ve lo faccio vedere magari più più nel dettaglio più da vicino ho usato varie tecniche ma adesso ve lo mostro eccoci qua allora come ho detto vi faccio vedere i tipi di tecniche materiali che utilizzate questo di colore azzurro è polistirene è un polistirene ad alta densità quindi molto duro da lavorare le pietre sono state anche loro realizzate con delle polistirene da 5 centimetri un'alta qualità un materiale un polistirene di media densità quindi si riesce a lavorare discretamente vengono si può imprimere decisamente meglio un segno poi è stato utilizzato del polistirolo dove ho effettuato appunto delle finte rocce e per l'interno del sepolcro ho utilizzato la schiuma espansa che a contatto con l'area crea di volume questa qui la parte laterale ah non ho detto che appunto tutta la struttura comunque è stata fatta con del cartone ecco qua poi un'altra tecnica che è molto vecchia ecco la tecnica tipo della carta peste praticamente ho effettuato queste finte montagne qua che potete vedere che sono già state comunque stuccate lavorate con acqua e colla che praticamente simulano appunto in questa parte qua del sepolcro la montagna è stata fatta prima con del foglio di giornale applicata poi delle carta scottex e con della colla vinilica in modo che si solidifichi tutto una volta solidificato il tutto viene appunto stuccato in modo che renda più stabile la struttura qui invece adesso sto ricoprendo la parte superiore del sepolcro appunto con la schiuma plurietana quella schiuma che abbiamo anche utilizzato per fare all'interno del sepolcro è molto comodo da utilizzare è semplice anche da lavorare l'unica cosa che bisogna fare attenzione che appiccica molto quindi consiglio di utilizzare dei guanti una volta appunto fatto il lavoro bisogna bagnarsi i guanti con della dell'acqua del sapone tipo quello per lavare i piatti in modo da lavorarci bene con con le mani sagomarla come crediamo meglio per il nostro lavoro questa qui la parte sinistra del sepolcro dove andrò a fare la crocifissione adesso aspetto che asciughi e poi andiamo avanti con la lavorazione la finta pietra già stata una mano di colore come le pietre ma dopo verranno successivamente di nuovo lavorate fare con degli ultimi ritocchi questi sono dei piccoli punti dove io ho messo la carta appunto per simulare meglio diciamo l'entrata del sepolcro e quindi adesso passiamo ai tipi di lavorazione in questa parte superiore ho dato dello stucco sul sulle rocce sul polistirene e sul polistirolo che abbiamo dato precedentemente in questo caso andiamo con dello scottex a ricoprire tutte le parti che avevamo precedentemente fatto e simulato con della carta del giornale questa è una tecnica molto semplice una tecnica che si usa da bambina praticamente usare lo scottex o anche la carta igienica stessa per andare a passare sopra appunto un qualcosa fatto in precedenza con della carta da giornale viene bagnata con acqua e colla vinilica in questo modo bagnando lo scottex stesso prende tutta la forma che è stata creata con il giornale si tagliano piccoli pezzettini se alcuni pezzi sono particolarmente un po complicati da raggiungere e si fa tutta la struttura del pezzettino che abbiamo appunto bisogno di lavorare in questo caso vedete ho piccoli triangolini di scottex appunto per coprire dei pezzettini che sono stati scoperti adesso invece vi faccio vedere la scala che è stata fatta con la schiuma preuretana praticamente è la stradina che porterà su poi al colle alla collina dove ci sarà la crocifissione una volta che è stata fatto asciugare la schiuma viene tagliata semplicemente con una lama dal taglierino e dopo levigata con della carta vetro o con una spazzola con i denti di ferro è molto comodo da lavorare come ho detto in precedenza molto leggero e l'effetto è molto bello una volta appunto fa tutta questa lavorazione qua viene stuccata tutta la parte lavorata in modo che successivamente la pitturazione la colorazione prenda meglio sul polistirene e comunque dia un risultato maggiore nello stesso tempo con lo stucco facciamo sì che che sia un pochettino tutto più stabile la struttura è un miscuglio appunto di colla acqua e stucco della densità non molto tenso perché se non andrebbe a coprire tutti 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 i buchi ma fatto un po diluito questo chiamo appunto tutta la nostra montagna che come potete vedere non è ancora terminata perché la parte sinistra ancora da da realizzare ecco qua ultimi ritocchi questo qui asciuga abbastanza velocemente adesso sto dando della colorazione sulla parte destra del sepolcro come potete vedere è già stato pitturato in gran parte è stata dato a una mano di fondo scura e poi successivamente dato delle gradazioni di colori per simulare di più alcune parti di rocce alcune un po di pietra sto utilizzando un pennello abbastanza grosso in modo da fare entrare tutto il tutto il colore in tutte le fessure che ho creato precedentemente con la schiume e con la carta e dove non arrivo appunto con quel pennello lì utilizzo un pennello un pochettino più piccolo appunto per arrivare nelle profondità un pochettino che ho scavato che ho scavato faccio delle zone di ombra con verde vescica mischiato con un pizzico di nero un po allungato cosa importante che fare questo lavoro praticamente utilizzo un colore molto diluito in modo che appunto quando il colore vado a appoggiarlo sulla parte desiderata si amalgama con con il colore stesso il colore che utilizzato è stato un marrone di terra di siena giallo ocra nero un verde vescica e chiaramente bianco è stato evidenziato appunto una parte un pochettino più sul grigio una parte un pochettino più sul marrone beige giusto per evidenziare la parte di di montagna che stavo creando adesso dagli ultimi ritocchi e nelle zone di ombra sempre con lo stesso colore verde vescico mischiato con un pizzico di nero vogliamo appunto nelle fessure dove noi vogliamo evidenziare delle zone di ombra adesso vedete le scale che ho fatto prima dove si evidenzia un po del grigio un po del marrone e la successiva colorazione con il bianco per dare delle zone di luce qua piccole zone di luce anche qui e praticamente il lavoro di colorazione per la prima parte è terminata grazie a tutti